Il 4 settembre scorso nei pressi del piazzale della stazione a Galatina una violenta colluttazione è culminata nel ricovero di un 35enne del posto, raggiunto da fendenti per mano del papà della sua ex che aveva incontrato poco prima. Il primo provvedimento che scatta al margine delle prime indagini è a carico del ferito difeso dall'avvocato Maurizio Scardia. Con l'ipotesi di lesioni personali è stato disposto il divieto di avvicinamento del 35enne alla ex fidanzata. Sono ancora poco chiari i contorni della violenta lite che quel mercoledì sera ha cosparso di sangue il centro galatinese e il mistero adesso si infittisce. Stando a quanto ricostruito i due fidanzati entrambi del posto, quella sera avevano deciso di rincontrarsi dopo una pausa di riflessione per dare un'altra possibilità alla relazione che, a quanto si apprende, era notoriamente burrascosa. Durante la passeggiata i due avrebbero però iniziato a litigare nuovamente e la ragazza avrebbe chiamato il padre per chiedergli di andare a prenderla. Quando l'uomo, un 52enne del posto, è sopraggiunto in auto, è nato un acceso di verbio con l'ex fidanzato della figlia. Dalle parole i due sarebbero poi passati alle mani, tanto da rendere necessario l'intervento sul posto dei carabinieri e di un'ambulanza del 118. Ad avere la peggio il 35enne, che all'arrivo in osocomio a tre case, è stato subito medicato per le diverse ferite da taglio riportate al braccio e provocate con un coltello di piccole dimensioni o un taglierino. È stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, restano dunque da chiarire adesso i precedenti legati all'aggressione, determinanti negli eventuali risvolti processuali.